Ok sono live, una live con la tosse E ne ho già fatte due in realtà Allora raga io ho selezionato che si può condividere Ma se c'è dovete condividere anche voi Ok ok Vedi Carlo ma mi senti vedi un po' Vedete voi perchè mi scoccio Sì sì Allora impostazioni parti E consenti sempre Parti corrente Non mi vanno scorreggioare con il microfono Grazie Bella raga Bella raga Sì sì mi sento Vedi io vedi io Senti sì sì tu ti senti Non lo so che ne so io Dove parla prima perchè va un po' in ritardo Va un po' in ritardo Eh grazie so 10 secondi io direi Eh vabbè Quale è il titolo rompista Sta al 40% E fa un per cento ogni 5 secondi Qual è il titolo Carlo Eh valla a leggere Live con la tosse Bella ragazzi arriviamo a 500.000 like Per il prossimo video Wow manco A 500.000 like Sopo 500.000 euro su Fortnite Oh l'ha detto raga l'ha detto Raga l'ha detto Fatevi tutti i profili falsi E mettete like raga Va dai vai Eh No non è vero Ma quando mi hai detto Quanti spettatori Carlo Cioè tu puoi creare Zero Zero Eh ma mo' è partita Cioè grazie Magari alla fine Sarà con zero spettatori Ma l'hai con tanta tosse Ma Carlo come sei gnocco Eh 500.000 commenti no È brutto No No ma è brutto da dire proprio È bruttissimo da dire Cioè Raga mo' metto proprio la bagnina Metto Eh Oh Mi sto mettendo Tutto il set metto Tutto il set della bagnina Voglio allora Voglio questa skin Voglio fare una storia reale Questa skin è bellissima Ma ora come una parco giochi c'è stato No no Decide Carlo Decide Carlo È decido Però Sì Sono d'accordo Facciamo un squad Perché sto a farco giochi 27 marco giochi al giorno Da 20 giorni E mi sto anche iniziando a scocciare Soprattutto se non rispettavo Bravo Carlo Vabbè tu sei in un livello diverso Di scemenza Scemenza Come parlo Ah scemitaggine Bravo Ma come sexy La bambina Svitiamo a Gabriele Finisce a fare Vesce di fare L'aggiornamento Soprattutto Ci guardiamo Una bella musica Dai ragazzi Vogliamo 5 like Per il prossimo Per la prossima live Insieme a Carlo Cirino 5 like All'anno L'anno 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 5 like 5 like Ma tu sei quanti Iscritto Bene Carlo Tiene 30 Quindi iscritto E domani Avrà 30 Andere Con Oh l'ha detto Carlo Ma perché l'ha detto Nel Domani Sarà Di Carlo Dove Andà Che esercizio Non se lo prega Nessuno Twitch No Guarda Molti Si Lo Parano Per esempio Sulla Presenza Di Farsi Salutiamo Tutti i Giocchi Che hanno Contribuito Ma per i Pro Gamer Si Per Perché Ma Tu Non Sei Un Pro Gamer Scusami No Io Un Pro Fallito Un Pro Tutto Anzi Un Pro Player Che Che Significa Pro Player Se Professional Player Cioè Giocatore Professionale Cioè Quelli Che Stanno Nel Classico Professionale Guardarlo Che Tiene Che La Television Allora Potrebbe Diventare Questo Ma Non Lo E Non Ti Preoccupare Carlo Contribuirò Anche Io Ho Fatti Diventare Un Pro Pro Poi La Per Poglia Per Centuale Poglia Per Centuale Capitarle Facci Ciaro Scramo C'è O Il Vestino E Troppo Bello Sto Facendo La Live Quindi Valla Vedere Ora Sennò Ti Banno Maghi Lorenzo Ma Perché Banno La Gente A Caso Vergogna Di Sta Male Ragazzi Ma Perché No Siamo Talmente Merde Andiamo Faccio Un Bagno Amaro Con Con Questo Caldo E Dove Vai Amaro Dove Amaro A Scala Io Sì Ma Quando Amaro Sanno Amaro Braugh Stanno Stavo Marchio Bernico Bernico Sardegno Masso Ma Ti Affangolo A Campo 的 marini campobasso ma guarda marino ma non è un dragone veramente taggianto e foto di tv lato la fermo lì alicee ammundo è ammundo di sommare avremo mondo vedi monte croce il mare che ridò capito no vabbè niente la cesta lascia perdere lascia perdere mamma un dragone ci sono i cinesi parte non è che stanno a bene o quelle un'altra volta ma dico stanno i cinesi perché c'è il dragone quindi stanno i cinesi giusto ma voglio vedere le mie battute bellissime è che la fanno sciacchifica ci posso fare va bene non ne faccio una serie un fungo dice una fungo porcino ma no a che punto stare tra loro iscrivete tutti quanti tanto nei commenti che sono molto battuta non riesce a dire bugia a me ma perché no non viene a giocare power con lui perché vale troppo scarsi rispetto a noi c'è 10 ma la rama fa un paolo infatti sono troppo poi vogliamo mettere i server americani così girano con ninja cioè tu credi che tra dieci milioni di persone siamo lui sì sicuramente c'è proprio possiamo guardare un basso tra sicuro ma ragazzi ragazzi ciò che me l'ha ucciso ha ucciso mit comunque è ciò che me chissà che un po' atti una auto c'era mit povera ma si serve l'americano mi faccio come faccio essere batti a ciccio che merica è una vip a bo non proprio non prove più forte di gabbo ma che cazzo dici non mi fa dire quanto a tete sicura della palestina e una fatica accio knowledge《 to be a bo meno in vida》 si utilizza le censure certamente a verto sì 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 c'èolly 4 video in quale video ucciso l'ultimo quale ultimo forza il devasto a palmetti pomposi e stars attorno a di pomposi è serta una strontata la chiesa privi di ma qualità ma c'è un probabile ma c'è quello che hanno ammattito pronto voglio o scorpione è bello sai che non è male però lo sai che 800 per 800 di bacco per una schiena non è quella sinceramente la show ma che non può ma questo ma veramente appunto mille due caro e teneburbo un vero lucente amico è amico ma il 30 euro in tutto ma io ho fatto il calcolo di quanto agli accanto vale 120 euro ne ho spesi venti ma tu gioca un po e ma tu le guida non è conto ma io ringrazio dell'autista perché l'audizione lavoro ragazzo tra valando no non mi piace spera una mancina un secondo 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 ci andiamo da un'altra parte un secondo secondo andiamo a corso corso o attenti ora avevo corso tempio no a macchus con la rosa vai e se ecco attenti neri guardi tra fastidio bravo bollo c'è al tablano tacci ditte che fox no ma non il tuo mio o uno spettatore un commento dopo vedo chi è quale allo scopo del massi sicuramente un commento mille che cosa triste tommaso se lorenzo pure se fanno anche il di merda masco c'è fenomeno fenomeno power ti dirai un po nuovo raga vai c'è due revolver posso fare davo le borre lorenzo ma noi ci facciamo una partita ragazzi lì che poi l'erenzo come vato bene carano non c'è colpa comunque ok ora ho zero spettacolo ma di mio cucino c'è il caccio ma fatti vendere le cose da fortunato no vengono fatti per rispondere da fortunato ma chi è fortunato e non è che non amico della sorella si provano ma beh sì che manco riconosce almeno fortunato mi conosce poi pensavo non c'è gente qua domenico vuoi super più roma andarci ha fortunato la ria da amicizia ma c'è qualcuno che è morto col cubo lo vorrei fare pure io perchè tengo la copro però non c'è gente qua entri domani ci volevo mandare la richiesta amicizia però tiene l'opzione che solo lo puoi mandare le richiesta amicizia e quindi rippere chi è stata amicizia imbacuaro la richiesta muore un po' no 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 a me non lo ho già non è che la no certo ma quello è venuto un sacco di volte a casa mia io devo ancora trovare un pompa in tutto ciò comunque vieni vieni non sono buoni cioè le m4 blu bellissimo lanciato nate blu bellissima però devo ancora trovare un tutto bello un bomba di merda bellissima esatto eh beh di me ma di merda abbia bellissima intanto il caro carlo la cosa non è molto raga contro di me si sapeva che non ce la faceva che puoi tu che chiedere a domenica ma domenica alle prime armi per quanto riguarda infattacalcio a chi va a chiedere ah no non è che gliel'ho chiesto me l'ha detto lui direttamente bellissima bellissima eh tetto no devi metterla al centro di ambo ah è bello proprio guarda ma non è meglio fare le che fanno da cazzetta a proposito no oh non mi serve più ma com'è tu con che l'acqua del tuo dove mi trovo la guerra con le che fanno da cazzetta no madonna ma è sicuramente comunque io dove ci trovassi o le 4 blu bomba no ma che cosa che cosa come lo canic nasi va vai da andesimo ti sei scudola sanno si che noia io sono l'unico cimone con cimone di scud wow c'avevamo un bel pitone con i cd talos ah si è bella la pompa ai tradi per caso carlo di qua di sincronizzati aspetta dove parlo zero però tre commenti che saranno tutte e tre di loro e che ha detto mo li vedo spero sono io che si sentono tutti gli naturali who is the rocket dove le messe che avresti robert me no nella casa la c'entra 18 la piccolina fai du quale piano terra o li vedo no carlo qua quella quella la casa vedi quattro sciolete leggeri piaci due pesanti ma io mi salga mi servono mi servono i pesoni mi servono gli ali da media abbastanza la storia da me lì da me lì non servono i pesanti e ciò lutto fantastico ora comunque sicuro io ciò la thompson blu il pompa nuova pompa viola diciamo come lo dobbiamo fucile pesanti di grosso calibro fucile pesante di grosso calibro viola e lanciagranate qui buon bello vuoi fare a cambio con il fucile da caccia red ma anche no questo senza bomba che poi ti do io ma che c'è un fucile pesante grosso calibro in enzo carlo mi dai il fucile da caccia do il popa singolo anche che mi dai farlo guarda come della mia esibizione in diretta di youtube carlo bravo grazie bellissimo ciao gentile che partita noioso su scena acqua non è lottato lupa effettivamente è una noia questa partita veramente un trattore 75 di legno muo hanno messo non più salta con sonbro vengo non solo me lascio la mia carlo questa no 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 carlo diato massimo di deve lasciare le scuole che contiene rinaldi in alto no 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 hanno cecchilato fucile da cecchino ragazzi l'ho presa subito 1 io chi vuole il bold action io io da qua nella condone rinalto però ho lasciato una bella cosa non avevi il calibro non avevi il calibro si vendite i cecchini il calibro il calibro sarebbe il punto dove sa che no l'ho preso io però l'ho lasciato un lanciagranate e chiamano un buon aspetito pure razzi ne trovate alla fine i miei razzi io sono affendi su portable ma ne trovate un ragazzo alla fine cazzo fede tra portate c'è inglese per sotto più comprensibile di tutti e tu non lo capisci ma che è erano il 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 maio al proprio nuovo bravo a più 1 chi l'ha lasciato chiedere carlo c'è qualche l'isla c'è in più qualche cicchino no per ma quanti tu parlo 3 sai 15 io 23 grazie pure io tutto me lo faccio io anche il match prendi erogna ti fai l'assoluto oh ma non aveva fatto una live con banger tu mi sa di no ah che bella chiave ah ma tu la conosci è vero è un proprio legger eh sì sì mamma mia fortissima qua facemmo una barco giochi dicette quelle forti vanno in squadra con lui tutto polino ma è che no non è di stare una critica costruttiva oh tanto a noi è una vita ma sottile a dire che fai schifo vabbè raga vabbè raga erano fortissimi erano fortissimi raga erano fortissimi ma lo deve essere stato do più hit da 127 raga e però che schifo io potevo usare la finitura portata per scapparmene in cina però no raga l'avevo presa no questo è fortissimo r1512 raga no su 2 ma che sta facendo prova su fare meglio io sapriamo che si fa o fosessi no mi confermo oh ma persa 2 o no no se il youtube non esiste aspetta 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 live da voler rm 512 raga 6 rm 9 12 raga 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 dove vai va bene è questo non ci sta su youtube però c'è un disco c'è giusto che ho fatto l'ala ma erano fortissimi visti quelli che abriano beh tu 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 sei scappato e che dice due tre contro uno no gli sponzi qua camper camper ma chi siamo al live non si può e non ci sono una sensibilità che non ne so sicuro perché c'è cacca ha fatto una skybase si si fa niente prendi il cosa prendi il rift e facci sul no se riesci a prendere il rift e andare sulla rosa che avesse un genio eh no non ho fallo 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 per la life fallo per la potenza di forti fallo fallo lo devi fare ce la hai dai buttat fuori entra vai ci metti il riente non prendi quasi dann apri subito No, no, sta in alto No, non ci arrivi Sì, ci sta gente Falla cadere, falla cadere Eh, è un mario tino Sicuro che ci sta gente Ma sì, sì, l'ho visto Boh A meno che non ci hanno in butto fuori Cosa molto probabile Sì, c'è gente comunque Vai, uno morto, due morti No Di culo Ah, no, tre eliminati No, due No, due Ma dopo di immagine Sava quello in volo E riuscivano a salvarsi Quanto lutto Sì, è un sapore Ma che sì, così merda No, non uscite più Ciao, scarla Allora, fuggile Allora, fuggile Tutto l'ultimo, vai Sì, sì Allora, Carlo Ristù Allora, prendi di lancerato Pozzi lo scarro Voto scarro se lo vuoi E il pompa Quello pompa là No, no Pompala Oh, lo scarro Oh, no, non lo vuoi Ti faccio, va tu Vai, esci Appassati Vabbè 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 Sì, va bene Ammucco Deve andare in safe No, no Stai Lo dice un camperone Ma di quanto Vai Vai Ma c'è da dietro E ammazzare Dicola Tomsson Fidano Vabbè Sì Pure Vedi Ma non fu No dai Gli tuoi Di riusciare Ma che come Ma Tomsson Buona Tutta A casi Su Allora Pochè Neviate Scara Con Pogas Si Ha fatto bene Meglio La Tomsson Ma Quello 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 Sto Colando Un Botto Potele Vengono A Già S Se Vengono A Già Call Al Con Venditore La Così Chiama No Ma Scusa Già Distributore Non Anche C'era L'Otto No Cic Come Fallo Gioco Staccia No Poi Però Questi Sautile Qua mi stavo per suicidare lo sapete perché che mi si facciano lei vissi sotto Non Intendevo quelli Ci stava qualcuno giù al bosco Eh Pafamucca Eh Iopi Ma 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 Che Ma Bloc Sarà C'è Merda Qua Camilla Merda C'è 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 Sei Morto Ma Sei Sì No Le Stole 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 Oh C'è 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 Curati ma nessuno poteva per adentrò la costruzione no 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 curati ecco che non fa lo ce l'hai diciamo anche un cazzo qua chiuso morti che anni e poter tornare manco a pari 58 o presenti fossi fatto con lo scudo saresti che ha morto quindi vedi ringrazia che scrivo voi la iphone d'ora qua un bato di cidu cc ma parla un amore qua ma con le gommette insieme a passare si può noi non buon oh no dice che siamo in live va a prendere l'air drop no vabbè ma fa mucca ma perché da parlare sempre com'è sei serio va a giocamorra in otto quando vengo a giocamorra in otto quando vengo a giocamorra in otto quando e vi zitto oh sto c'è spugno che c'è mulli non ti permette ma oh bravo veluz veluz mannaggia veluz no essa cosa l'ha le indanni lui bellissimo no raga ma è bellissimo no raga che ti hanno otto coglioni oh ciclo è sceso quale scesa attento che ti vorrebbe uccidere lo deve uccidere quello che sta avvenendo il tavisto visto visto mai mai di 8 le bai o a juve ho condotto alla seconda costa chiamati ma come facci l'ho farlo dovrebbe riuscire infatti c'è riuscito due volte a bambini e pure che calcio calcio grazie è un complimento che deriva dal mio cuore vai giù tanda rime di risa molto quanto poche sancio mondo o l'ha detto carlo per rituale che non va dario no dai che dario bella roma chiamo ha sembrato ma come pareva usci urbano e noi carlo mi consigli una sensibilità adatta a me 1 a 1 a 1 perfetta per campionare già veramente 7 8 7 8 è perfetta eh 8 9 ma fai 6 7 6 7 6 7 a buono vediamo 4 7 bravi io non mi sono mai trovato buono con niente cioè ciò che basta ma mi trovo bene con 9 9 no è che pesca io e carlo c'è un tizio che si è preso il pompa sopra e baffan mox non ti andare a prendere quell'arma non ti andare a prendere quell'arma l'avevo vista e la volevo prendere io invece me l'hai fregata a te 20 anni ma dove sono andato no dai ti si è preso la pia manta no ti ho preso il cecchino bastardo è schifo brutto pezzo di merda ma hai ragazzo si è bene siamo qua con le problemi no perché ti hai messo tanti madonna vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua no carlo carlo non mi fermi mai eh oh no carlo vieni qua vieni qua brava brava dai mi hai tutto qua no carlo vieni qua no carlo vieni qua perché carlo non guarda niente c'era non mi da una mano eh oh che vuoi eh lo voglio quel fan io esco aspetta io esco eh maria io esco ah pensavo uscivi da uffa no eh si si sarebbe bello carlo c'hai pallottole 23 è da me nascono poi vi prego potete fare una partita a camperare ma anche no siamo al live qua cosa scusa ma è più divertente ragazzi facciamo una cosa oh gente a nord scrivete scrivete sì sotto i commenti ma si resta nessuno come fare una partita senza usare armi però l'hai tato quello no so vedete che fai dai quanto si muove dove stanno carlo mi giusto ma si muove un botto quello ma ciao no ma dai no vabbè io ma no ma che vuoi ma quello si muove quando io lo sparo oh ma intanto tu muoi ma no vabbè hai visto si è girato quando glielo ho sparato aspetta ma dai uomini e noi mi siamo anche in testa mo che c'ho la mira sulla testa ogni colpo che sparo magicamente la sola testa ma che stai a dire che poi quello che poi quello si sta per muovere quindi non è che potevo avevo tutto sto chiamarlo che se n'è uno scuola e metto che vince se il bezzo lo sfreddo i colpi o c'ho proprio andato madonna io ciao ok vabbè no lo è ripetato vediamo questo qua e non io ho tolto 80 facciamo un parco giochi no dai raga non c'ho voglia pure io facciamo un scudo basta che ho vinto raga vi prego possiamo fare una partita senza armi no facciamo un parco giochi in cui però non si può parcare sotto no non è noioso sfida tra cecchini che cosa è bello facciamo facciamo no pochèusci darò massiccio ti fa proprio piacere no facciamo che non si può far cadere sotto vai come cazzo voi no perchè non va mai così ma no non è vero io quando dobbiamo fare così lo rispetto sempre quella volta quando ti ho fatto cadere tutto il fortino con Simone perchè non me l'avete detto io in genere lo facevo sempre che si poteva far cadere sotto eh come con me ma tutti contra tutti si ah ma noi domenico non perdiamo subito pinnacoli domenico io sto a casa squad 4 non venite da me vado qua non per niente ma tu ma non per niente ma domenica ti abbracci dopo domenica non ti preoccupa comunque abbiamo fatto una cosa bellissima facciamo che si può fightare in qualsiasi momento a partire da cinquanta 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 no 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 mi domenica ti basta zi vado alla casa con la cessa sui bello non c'era ziii siiii non lo posso fare ma lo uso no le regole base quali sono regole base allora non si può far cadere sosto non si possono usare le armi esplosive ma si possono usare le granate è schifo non ha amato io che ho scorretto a mai uguale o non ha mai no ma la vero che palla no no ok c'è un'arma bella al distributore non ce l'ho la action vengo subito grazie però lo facciamo a sfidare le tue ma non proprio ma vera che ho trovato 27 miliardi 8 27 miliardi di volte le doppie pistole certo max e che c'è chi non sta nella la macchetta ma allora dopo un nuovo appena vabbè un'altra cosa nuove raga ma che guarda ma l'abbiamo detto forse è stato distratto o calda non sempre ma può capirà ai si possono usare non mi faceva vota voglio no ma che mi viene a rompere i coglioni madonna poi non saprei mai la che fa le fucili termici potrò un'arma molto bella ma non si può no ma non è domenico ehi, ciao dove sei il... ah eccolo vediamo ancora trovare una R cioè probabilmente l'abbia già trovato ma tipo scarse quindi no ma guarda davvero che schifo fuori buffo che è questo super dominator e carlo ah perché teniamo la skin uguale vabbè se no noi possiamo riconoscerci un bello questo a me non ha costruito infatti vecchie uno c'è stupido come facciamo perché non si può dire perché è una cosa di razzismo mi hanno detto sono Gabriele sorry to do youtube sono Gabriele sono Gabriele ho capito parlo ma tu le salvi le live cosa? mica le salvi le live tu si ovvio se sono belle si no non le salvare io andrà salvare perchè? ho ti spieg ehi vabbè ho fatto qui ho fatto qui ho fatto qui ho fatto di quanto diventa un osco io so l'esatta posizione di tutti quanti ora se non passare sono strano eh carlo e chi è che sto facendo quel labirinto raga io alla faccia del labirinto eh qual'è il problema ricostruzione? oh 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 ah taci no carlo come sto trucchetto non funziona e ti spari direttamente oh oh ma chi è sto bastarda ma c'è qua oh io oh oh eh ho fatto il bastardo e ora c'è stato amirto vabbè e ma è il suo ultimo partire oh ultimo partire lo faccio delle regole basi eh ea ma rovo qual'è il segno che schifo e tu però mi hai fatto cadere il fortino vabbè ma anche certo che c'è caduto E il mio intento non era quello di far chiedere E qua c'è come se sfidiamo Perché io non tu Carlo però se ti fai così alto Noi non ti posso rompere la base E non è vero Ghiato ma ho le regole Madonna Non si può non farmi cadere E ma tu vabbè Guarda come ti metto C'è il mio capore è morto C'è il mio capore è morto E non so ci va E allora ho problemi tuoi E allora è come Parole tu Parole tu Problemi tuoi Belle risposte però Guarda dove sei Ma quando ma Non ti faccio nessun favore Non mi hai preso Io te l'avevo detto Perché mi volevo decennare Un po' passarda Se ricene che chi le sta all'angop No 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 Carlo però non ti puoi mettere là sopra C'è L'ho fatto Sei su quella che c'è No E io la vorrei rompere Dai chi è che mi ha fatto cadere Che godo Raga però c'è le regole Le regole vi facendo Abbiamo dato le regole All'inizio della partita Amore dobbiamo rispettare Davvero aiuto Tu cazzo No Ma più gentilmente potete fai dare a qualcun altro No Dai Carlo Madonna mia Carlo Ah per favore Io non sto avançando Esquerra mica Vai Non mi vuoi Que qua devo imparare dalla vita io non so era una vita che stavasse pittam oh no No, sei. e pati a gabriano ti spara domingo se io promesso promesso Madonna che giocata Troppo belle queste granate Ma Elancio Il donkey Il suo Il finale Il Il I Lo On capta я per esempio la ecco vedi per esempio è tommy ma tanti scoletti beh tomaso sei andato sta camperando da qualche parte scopri lo butteggio sportino ma non stai non portino san carlo abbiamo detto tregua tre ebbe però c'è ora morto va bene questo perché era morto anche ma come vuole migliorare con più scarsi c'è non che tomaso è scarso un po di arcadena parte che non ce la farai perché indistruttibile questo perché non finì mi attirare perché la borsa doveva rapi aspett lala domeni non ti affacciava così domeni non ti affacciava così è domeni però c'è ragazzi ma vi rendete conto che io sto vedendo con carlo domenico ti posso veramente di vostro consiglio veramente non devi giocare così perché allora se io ti sto mirando c'è io non so dove stai e tu sei sposto così io ti chiquillo no sono io cosa vi ha combinato carlo no